Grazie a tutti. 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 Buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 Il tema di frenare, di trazzare, di sentire il pochetto, la sirezza e tutto il sorriso Questo è di Maralba Il per primo ti dà sentire che i quanti i passi sono Che ha trovato, che sono stati ci sono E quindi, che ha insegnato a conoscere una cosa Sì, sì, sì. Grazie. Il teleo tre dalle fuoco al coche, dalle salita Il teleo tre dalle fuoco al coche, dalle salita